Si finisce mai di apprendere e di imparare? Ho titoli di studio terza media. Questo è un vecchio formulario. Ecco, allora, io leggo continuamente, prendo note ed appunti. Questa è una pagina, formula 32, costituzione di parte civile effettuate al curatore del fallimento. È molto utile per quanto riguarda anche vecchie formule e si deve esaminare continuamente tutto. Più si studia e più non è. Io per prendere questi appunti ho fatto una disamina ricerca attenta. Ma quello che conta maggiormente sono gli appunti. Ad esempio, qua noi parliamo di questa parte civile, curatore fallimentare. Quanti casi ho in perdimento? I casi perdimenti sono tanti, tantissimi. Per quanto riguarda, io tengo conto, in particolar modo, di tutti gli atti versati su Facebook. In special modo, l'ultimo che ho postato. Allora, come vi rinanzando. Grazie.